Quando la disoccupazione e la crisi non danno tregua, le fasce più deboli sono quelle più esposte e i cittadini sono costretti a fare quanto di difficilmente pensabile per vivere o meglio, sopravvivere. Così ci sono quarantenni costretti ad andare avanti con le pensioni dei propri genitori anziani, c'è chi fa ricorsi a quei soldi accantonati per quando il figlio neonato diventerà maggiorenne o quelli accantonati per il funerale, chi vende loro di famiglia o chi è costretto fino anche a prostituirsi per poche decine di euro. L'allarme è stato rilanciato dall'associazione Robin Hood che chiede al comune di Teramo di intervenire nella gestione dei tributi che vanno pagati sì, ma con una adeguata rateizzazione. Tanti cittadini si rivolgono proprio all'associazione Teramana perché impossibilità di avversare i contributi locali richiesti. Stiamo vivendo in un momento in cui invece di combattere gli sprechi vengono annunciate delle reti per raccogliere più soldi possibili anche su posizioni che sono decadute, quindi attenzione alla pubblica amministrazione in questa fase nel fare queste operazioni e soprattutto una richiesta alle amministrazioni locali per quanto riguarda i tributi locali di fare così come è stato fatto per esempio al comune di Pescara una realizzazione più lunga delle proprie posizioni. Laddove nell'interno del numero familiare esistono condizioni economiche svantaggiate, in particolare non quelle rappresentate all'ISE che sappiamo sono ormai strumenti che non danno l'effettiva misura del reddito della famiglia, ma dove esistono lavoratori in mobilità, lavoratori come quelli di Villapini che non sono né in mobilità né in casi integrati, non sono neanche disoccupati e quindi sotto un profilo formale lavorano però non prendono stipendio e ce ne sono molti oltre a questi lavoratori qui. Quindi tutti in quei casi dove ci sono condizioni di questo genere noi chiediamo da parte della pubblica amministrazione un impegno a una realizzazione più lunga di questi di questo tipo di lavoro. Grazie a tutti